E bella a tutti ragazzi, sono già benvenuti in questo nuovo episodio di Five Nights at Freddy's E' un gameplay che mi ha chiesto un iscritto, quindi direi di iniziare Let's go! Allora, 5 giorni al party Five Nights at Freddy's, quindi 5 giorni al party Quindi 5 giorni al... Ok Cacchio guardi Tu hai sbloccato la stanza, don't spaura Allora qua, buongior... Ancora a guardarmi? Attento eh! Sono una persona seria! Attento! Ehm... Sì, giusto, hai ragione Questi sono i tuoi amici Ti ammazzeranno solo, ma sono i tuoi amici? Attento eh! Comunque... Qua c'è un microfono, quindi... Come Justin Bieber Ok ragazzi, continuiamo... Andiamo per di qua Devi sfondarla alla porta, ciccio Sfonda For... Si è fatto male al ginocchio Del tipo... Mi sono fatto male al ginocchio Domani un altro giorno Anche questa tipica frase di Via col vento Via col vento! Stai bene? Ah, addio Ti ho voluto bene Va bene Ok, ora inizia il gioco Sento l'odore del Rekt Allora, andiamo alla porta Eh... 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 Attenti Giù Attenzione La proagine Oddio, sti rumori Mi fanno paura Dai No, no Foxy Foxy Foxy, bello Addio Allora Foxettino Tu stai bene, ciccio? Bene Ok, intanto Notare Aspettate Eh ragazzi Vi devo far notare Il... Il robottino Sembra la tipica frase da Uccidetemi per favore Allora Stiamo attenti Attenzione Eh... No Attenti Attenzione Ok, qua non c'è ancora nessuno Però sono... È l'una Io devo arrivare a cinque Però i jumpscare Non ve li beccate Voi me li becco io Eh... Foxy Miam, 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 miam No Grazie Comunque Allora Andiamo via Attenzione Ciccio Bastardino Allora Vabbè Il telefono Basta Hai vinto Cioè I giocattoli di sto bambino Ma... Ma... Perché hai il ventilatore del purple guy? Non si sa Ma comunque Due Andiamo di qua Eh... Ma... I... I calci in culo Sono le due Le due Vuol dire boni Vuol dire boni Le due Cos'era? Aiuto Ho paura ragazzi Perché quando non succede niente Vuol dire Rekt Attenzione No Sei brutto Sei brutto Ciccio Ciccio Mage Non mi Consigliare Più Questi Giochi Ma... Mi viene un infarto A me Ma cosa me ne frega Dell'aggiornamento Ragazzi Ero andato a prendere una galletta L'avete visto anche voi L'avete visto anche voi Sì 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 Lo so Ciao 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 Bello il quadro vero? Bello anche il lampadario Fatto bene Attenzione Oh oh la foto di Morgan Freeman La foto di Morgan Freeman Attenzione Eh Morgan Freeman Eh Foxy Foxy Lo so Tu mi puoi dare una mano Vero? Vero Foxy Tu mi puoi dare una mano Vero Foxy E ragazzi Con il gioco horror di oggi Direi che abbiamo finito Lasciate tanti like Qua sotto Per se volete Che faccia Untarned Con dei miei amici Se volete Abbiamo anche il server TS Abbiamo tutto Quindi Venite proprio Spaccate il TS E ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video E Ciao ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video 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 Noi ci vediamo al prossimo video